Se vuoi uscire ancora, stai a casa. Il picco è passato e i numeri sono bassi, ma non dobbiamo abbassare la guardia, l'igiene delle mani, la distanza sociale e se abbiamo sintomi compatibili con il Covid chiamiamo il nostro medico e verremo testati, se siamo positivi i contatti verranno messi in isolamento. Ci bisogna l'aiuto di tutti e non dimentichiamo la mascherina, la distanza sociale non è garantita. Non abbassiamo la guardia adesso, non c'è un ragionamento della stazione epidemiologica per cui passare ancora adesso con l'età di tracing. L'invito veramente ancora a dare seguito alle indicazioni del governo, a dare seguito alle indicazioni del medico campionale, l'avete detto poco fa, se vuoi uscire ancora stai a casa con il governo. E quindi fatelo in maniera autonoma, utilizzate la vostra intelligenza, utilizzate la vostra campionale. E quindi a capire che mi ha messaggi che mi stiamo dando, che mi stiamo dando per voi e per permetterci di nuovo quest'onda deve farci pensare e soprattutto di trovarci, passeggiare e ricostruire l'automità per capire che tutti abbiamo bisogno, tutti. Se vuoi uscire ancora, stai a casa.